Allora, per includerai di questa mattina vi stiamo per dare una notizia importante perché sta per scadere il 15 di febbraio il bando per la richiesta del servizio civile. Sono oltre 3.000 progetti per l'Italia e per l'estero e di questo parliamo con Licio Palazzini, presidente della conferenza nazionale anti servizio civile. Buongiorno e benvenuto naturalmente, grazie per essere con noi. Allora, perché lei consiglia ai nostri ragazzi il servizio civile? Perché conoscono direttamente il mondo in cui vivono, quello in cui stanno tutti i giorni e non soltanto tramite social, perché imparano se stessi, perché in quel modo capiscono di cosa sono capaci e di che cosa invece sono meno capaci. E quindi è per questo che è utile fare il servizio civile, ma anche per i cittadini è importante il servizio civile, perché è un modo per sostenerli nelle difficoltà ed è un modo anche per accompagnare le tante buone attività che vengono fatte nei nostri piccoli centri e grandi centri. Palazzini, per andare sul concreto, vediamo un po' quali sono, anche con l'aiuto della grafica, quali sono i requisiti che vengono richiesti e poi come si svolgeranno i colloqui di selezione in questo tempo di Covid. Vediamo un po' la grafica. Eccola. Ecco i requisiti. Come potete vedere, 18-28 anni per tutti i cittadini residenti nel nostro paese, quindi non solo i cittadini italiani, sono tantissimi i posti disponibili, quasi 56 mila. In realtà i progetti sono tutti per 12 mesi, quelli che attualmente sono accessibili ai giovani, un orario di servizio di 25 ore settimanali, che può essere organizzato anche con un punto orario, quindi con una flessibilità richiesta molto dai giovani, e c'è un assegno ventile di 440 euro. Quindi, insomma, si fa qualcosa di utile per la società e si prende anche qualcosina. Ci dice quali settori copre questa offerta? Va, guardi, l'offerta copre praticamente tutto quello che la legge permette, dalla tutela del patrimonio artistico e culturale al grande settore della cura della persona, quindi l'assistenza alla promozione e tutela dei diritti umani, all'agricoltura sociale. Alla educazione, alla formazione di altri giovani, di bambini, all'accompagnamento di adulti, ed è quindi una possibilità per conoscerle davvero, non stanno accanto a noi e che normalmente tanti giovani non conoscono. Ed è anche un modo, per i giovani che ancora non hanno un lavoro, di imparare a capire come si sta insieme agli altri per fare delle cose concrete. È davvero un'occasione di educazione e di formazione. E per chi ha studiato può anche mettere in pratica quello che ha studiato, che non è una conoscenza da poco. Non abbiamo detto come si svolgeranno i colloqui in tempo di pandemia, in una parola. È il colloqui, soprattutto da remoto. Il remoto che abbiamo conosciuto in questi mesi lo applicheremo anche nelle selezioni. E ricordiamo che per chiunque voglia prendere delle informazioni trova tutto sul sito www.scelgolserviziocivile.gov.it, che è quello che vedete nel bandone. Grazie, grazie, buon lavoro a voi.